allora queste le faccio insieme perché sono uguali se sono mai stata fidanzata sì sono stata fidanzata due tre volte però per periodi molto piccoli perché ma quando ero più giovane quando avevo tra i 18 e i 27 anni cose così e dopo dopo 27 anni sono stata male sono finita in ospedale per due mesi e dopo da lì non ho avuto mai un ragazzo diciamo per dire fidanzato poi io non mi vedo non mi vedo e non mi vedevo bella e quindi non ci credevo non ci credo agli uomini che mi dicono mi piaci sei bella e quindi quando ero più giovane sì perché la gioventù ti porta sì andavo in discoteca avevo conosciuto questi due tre ragazzi e dopo magari solo storie così ho avuto dopo sempre tanti amori platonici che a me piacevano tantissimo ma io non piaceva loro e quindi insomma è da tanto tempo che non ho un ragazzo però ormai sto bene così per il momento tanto è inutile non ci credo a chi dice che sono bella e ma io mi vedo così non credo che io possa piacere a qualcuno quindi lascio stare ma io mi vedo così ma io mi vedo così ma io mi vedo così